La seconda operazione di trading di dicembre di questa settimana è un long su sterlino dollaro, essa è già chiusa a target, ed è l'operazione che andremo oggi a vedere in questo aggiornamento del diario di trading di Professioni Trader. Io sono sempre Damiano Zito, Pre-Session Trader indipendente, membro attivo della community di Airforex e collaboratore di Airforex, e in questo appuntamento settimanale andiamo ad aggiornare insieme quella che è la mia operatività su un conto di trading reale, che ho dedicato alla fase esperienziale del percorso di accademia che ho interpreso sempre all'interno di Airforex. Allora, sono davanti alla piattaforma MetaTrader 4 collegata al conto di Professioni Trader e come possiamo vedere lo storico delle operazioni mostra quest'operazione su sterlina dollaro del 14 di dicembre, che ho chiuso al prezzo di 27,91 circa, incassando 97,70 euro. Al momento non ho posizione aperta, quindi non sono esposto al mercato, quindi il conto è fermo e questo è il saldo, un conto che si ritrova al momento a 114 euro circa di profitto. Ma andiamo a vedere un po' qual è la situazione sul diario di trading che ho già aggiornato. Questo è il mese di dicembre e come dicevo prima, questa è la seconda operazione. Quindi il primo trade sul petrolio, lo short del petrolio, abbiamo discusso nelle due puntate precedenti, mentre oggi andiamo a parlare di questo long sulla sterlina che ho svolto dopo un trigger doppio minimo, doppio minimo Air Close, che adesso andiamo a vedere sul grafico. Trigger operativo sul quale ho investito 100 euro, entrando praticamente al breakout del trigger, o meglio sul prezzo del breakout, sulla zona di breakout, e investendo quindi questi 100 euro in zona 1,24 e 75. Il trade sostanzialmente l'ho inserito il 14 mattina, sono uscito in serata e andiamo a vedere un po'. Chiaramente non ha interessi perché non sono rimasto overnight su questa posizione e quindi ho incassato 97,71 euro. che se andiamo a vedere quindi sul riepilogo portano al momento, il mese di dicembre, a un risultato pari all'1,32% e quindi riporta tutto a un conto che è totalmente diciamo a circa l'1,15. Ok, quindi diciamo due trade in questo momento, due trade comunque buoni, adesso passiamo quindi sui grafici a valutare questa, diciamo a rivedere questa operazione di trading e quindi il processo decisionare. Allora, qui ho già riportato l'entrata, lo stop e l'uscita. Il target in realtà era un po' più in alto, era più o meno 28,50 e questa in realtà è la close dove ho, diciamo, deciso di incassare di incassare quando ho visto il mercato muoversi. Quindi un mercato che in questo caso sostanzialmente sono andato a prendere sui massimi di relativi. Chiaramente cosa succede adesso? Anzi, facciamo prima un riepilogo, veniamo da dove venivamo? Venivamo sicuramente da un nuovo, una continuazione del rialzo, questo è il settimanale della sterlina, venivamo da questa fase long che aveva visto un ritracciamento piuttosto ampio, quindi una fase short, che poi si era, come dire, estinta, aveva finito il suo movimento, già da ottobre aveva dato i primi segni, poi rialzo di volatilità e quindi nelle ultime settimane aveva riportato il trend long sul cambio. Quindi la scorsa settimana ci trovavamo, cioè la settimana precedente ci trovavamo in una fase di pullback, quindi dopo questo massimo eravamo qui in una fase di discesa e quindi quando il mercato ha creato quella che era, diciamo, adesso andiamo a vedere, una piccola falsa rottura di questo minimo, ho deciso di fare un ingresso long. Quindi andiamo a vedere sul giornaliero. Allora, come dicevo poco fa, effettivamente eravamo in un momento in cui il mercato poteva ritracciare, o meglio, stava già ritracciando, ma poteva anche creare una, come dire, un ritracciamento più profondo, anche verso i 24 e mezzo, l'1,24, quindi dove c'è stata anche questa fase di pullback e poi ripartenza long. Durante quindi la scorsa settimana si era venuto in realtà a creare questo setup, costituito dalla candela dell'8 dicembre, quella dell'11 dicembre e del 12 dicembre, ovvero un setup che è un, come dire, un inside fake out, una pin inside fake out, quindi il martedì 12 dicembre si era venuto a creare questa candela di indecisione che faceva falsa rottura dei massimi precedenti, rientrava all'interno della outside bar, che è questa candela qui, e quindi si poteva pensare che al, lo rifaccio qui, questo è il massimo che la candela ha rotto, mentre questo era il minimo che volevo vedere rotto con decisione per poter valutare uno short, ma con una conferma. Questo perché, chiaramente qui ancora il mercato non c'era. Cosa ci stava dicendo qui il mercato? Ok, sono in una fase long, sto ritracciando, questo è un setup che si sta formando sotto il livello chiave, questo livello qui, insomma, 1.28.30, e è probabile che alla rottura di questo minimo il prezzo possa andare, il mercato possa andare ancora più giù. Però venivamo sempre da questa tendenza long, quindi questo setup necessitava di una conferma maggiore. Il giorno seguente, nel momento in cui c'è stata poi effettivamente una rottura di questo minimo, e qui è abbastanza lieve perché siamo a 1.25.02, nel momento in cui si crea, diciamo, una falsa rottura, il mercato tocca 1.25.5 pips. Infatti, se andiamo sul 6 ore, vediamo proprio come si è venuto a verificare questo, no, sul 6 ore è un primo setup, questo è il doppio minimo IR close del 6 ore che poi ha creato, ha formato il daily. Il doppio minimo IR close è sostanzialmente un setup operativo dove il minimo e il massimo della candela in esame va ad inglobare quella precedente, quindi questa è una outside bar che ha, in questo caso, o meglio, come caratteristica per essere IR close, ha una close che è maggiore del massimo precedente. Quindi, diciamo, si poteva già, in realtà, questa era già una grande informazione dal punto di vista di prezzo. Chiaramente questa è una candela, è la candela che ha avuto inizio alle 19, quindi si è sviluppata nelle 6 ore successive, e in realtà io ho fatto il trade la mattina successiva intorno alle 7, quindi durante la sessione notturna il prezzo ha convalidato il setup, io la mattina sono entrato proprio a 1.2637 che è sostanzialmente il prezzo poco sopra, il massimo registrato da questo setup. Poi, qui, il mercato parla abbastanza chiaro, è andato fondamentalmente, ha fatto un leggero spike in giornate e mattinate, poi è andato dritto in alto. Quindi, questo era appunto il setup operativo sul daily, che abbiamo visto un po' nel dettaglio del 6 ore. Avevo inserito un target un po' più in alto, perché, insomma, è abbastanza tipico per quanto mi riguarda inserire un target in zona 261.8 o anche un po' più in alto, a volte neanche lo inserisco, questo perché poteva verificarsi anche una situazione un pochino diversa, cioè un mercato che, arrivato su questa zona resistenziale, che corrisponde poi col 161.8, il T3 di questo setup, poteva, come dire, in prima battuta, arrivare, fermarsi, congestionare, fare un leggero pullback, e poi magari lo potevo accompagnare verso questi livelli. In questo caso, invece, che cosa succede? Che il mercato spara completamente verso l'alto, arriva dritto al 211.80, quindi il T4 di questo setup. Ricordo che questo è T1, questo è T2, questo è T3, questo è il T4. Fondamentalmente, quindi, decido di chiudere in serata intorno alle 18-17, insomma, in serata, o forse poco, sì, poco prima, esatto, poco prima del chiusura a sei ore. Eccola qui. Quando ci troviamo, praticamente, in chiusura del... Andiamolo a vedere, interessa l'orario. Storico operazioni, eccolo qui. 17.39, in realtà sono 18.39. Alle 18.39 chiudo a 1.27.91. Quindi, diciamo, quando si stava per chiudere questa candela, chiaramente ci trovavamo su un livello di confluenza, o comunque di estensione, in questo caso, un livello dove, effettivamente, dove il mercato, se ci arriva senza ritracciamenti, ci arriva veramente con volatilità, è molto probabile che avvenga un ritracciamento. ci trovavamo. Al giovedì ho deciso di incassare questo veloce movimento. In questo caso ho fatto molto bene, nel senso che è arrivato proprio su quel livello e ha ritracciato, tornando addirittura a BA, quindi in questo caso avere un trade molto preciso, ecco, non capita spesso. Per quanto riguarda il posizionamento dello stop, in questo caso ho deciso di, avendo sensibilità sullo strumento, quindi la sterlina, seguendola veramente molto da vicino, vedendo poi quella che era la situazione sul mercato del Forex in questo momento, ho deciso di posizionare uno stop, in questo caso 30 punti circa, 25 punti circa, sotto il minimo che si era venuto a creare. Quindi eravamo a 1,25 e mi sono posizionato a 1,24 e 75, quindi ho lasciato 25 pips di spazio da questa piccolissima falsa rottura che andava a falsare di poco questo minimo e quindi il trade in questo caso è andato poi tra l'altro subito nella mia direzione. Per quanto riguarda quindi poi la decisione di magari posizionarsi a BE, ho preferito non farlo proprio per, per quanto dicevo poco fa, il fatto che il mercato sia andato dritto dopo il 161,8 al T4, ho preferito incassare e quindi lasciar perdere momentaneamente questo target mentale dell'1,28 e mezzo. Il mercato poi chiude in realtà una settimana dopo questo forte rialzo e chiude la settimana bullish nel senso che il mercato dopo questo trade long che ho fatto e il ritracciamento comunque chiude con una settimana bullish, questa è in realtà una candela setup del piano, diciamo, dell'approccio Airforex, un FTV che è una strategia proprietaria di Arduino Schenato e che effettivamente alla sua convalida, cioè alla rottura, potrebbe ancora dare spunti rialzisti. Però siamo appunto, siamo su questi 1,28, probabilmente la rottura potrebbe, prima di vedere delle ripartenze, magari rompere il mercato, creare un ulteriore ritracciamento o comunque portarsi sopra e quindi dare degli spunti operativi sopra 1,28. Il mio piano quindi sulla sterlina, ma in realtà sul mondo valutario in generale, eccetto Yen e oro, questa settimana infatti ho preferito lasciarlo esclusivamente long. Quindi qualora si venisse a verificare un setup buono, qualitativo, potrei valutare un ulteriore ingresso. Ma non è detto insomma che questo si verifichi. Quindi questa è la situazione sul mercato e appunto ritornando un po' sul diario di trading, vediamo come effettivamente con due trade, in questo caso due trade di buona qualità, siamo in questo momento in una situazione decisamente buona. Tra l'altro, volendo, possiamo dare un occhio al petrolio dove avevo fatto l'uscita, anche per vedere un po' quello che dicevo la scorsa volta, io avevo uno stop profit su più o meno ai 72, 72, sì, ero più o meno su questi livelli 72,81, non avrebbe prezzo lo stop profit, però come dicevo appunto nello scorso video, questo, l'arrivo qui poteva, come dire, questa candela di volatilità è ripresa long in questo modo, sopra certi livelli, mi dava l'idea che potesse far ripartire il mercato, anche se poteva tornare giù, ma come dicevo, sempre nello scorso video, non avrei mai venduto un ritorno delle vendite qui, proprio perché eravamo in zona di domanda. Tant'è che il mercato è andato a sfiorare il target a 67,80, però poi è andato a creare quel pattern di cui parlavo, che in questo caso è stata la rottura del minimo della candela di vola, e il ritorno long che in due, tre, insomma, tre candele circa è andato poi a rimangiare, a rimangiare un po' il ribasso. Adesso si è venuto a verificare una, come dire, una situazione interessante, però ancora, ancora i tempi non sono maturi per ritornare short, anche perché poi dopo il movimento, adesso abbiamo una settimana che ha chiuso con una pinbar reversal, anche se non fa falsa rottura, quindi è una situazione che dopo il trade che ho fatto, al momento, mi ha fatto rimanere long short. Quindi, diciamo, questo è l'aggiornamento del diario, e io rimango soddisfatto delle decisioni prese questo mese. Probabilmente potevo fare meglio sul petrolio, però, insomma, ci siamo e va bene, va bene anche così. La sterlina è stato decisamente un buon trade, un ottimo trade di qualità su una falsa rottura che, insomma, ha portato ha portato un bel movimento long. Bene, questo è l'aggiornamento per questa settimana. Spero, insomma, in qualche modo possa essere stato di aiuto, aver trasmesso valore o in qualche modo informazioni sull'approccio che ho al mercato. se qualcosa non ti fosse chiaro ti invito a lasciare un commento sotto questo video, magari anche lasciare un mi piace se ti è piaciuto e ti ricordo anche di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto. Per il resto io ti ringrazio, ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading. Alla prossima!